buongiorno ragazzi dal vostro cart al curva nord allora partiamo con il video della giornata dicendo a tutti voi intanto per cominciare grazie veramente grazie di cuore a chi questa settimana praticamente mi ha sostenuto nel video post diciamo di genova inter vaffanculo allora oggi sto qua perché ieri era il compleanno di un tizio perché non male lo chiamo il tizio che si chiama mauro icardi presunto presunto eh ragazzi dico presunto capitano dell'inter il signor mauro ricardi compie 25 anni a me lo sai che cazzo me ne frega un immerito cazzo un immerito cazzo perché vi chiederete perché perché quello non è un capitano e non lo sarà mai purtroppo a dirlo il mio capitano non è Javier Zanetti sì è vero ma per come si sta a comportare a livello societario sinceramente me sta a fancazzare pure lui quindi io sai che cazzo ti dico a mauro ecco il mio culo di buon compleanno vaffanculo 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 eccolo ti piace l'agurio di carta al curva nord è un tuo diciamo tifoso piccolo perché sono un piccolo tifoso ma ti manda a fanculo e ti manda a fanculo perché fai schifo ancora che ho letto la notizia di ieri che te degni che non credi al progetto su ning mo non te vieni a pensare che mo vai a chiedere l'aumento perché ieri è scritto ed ha scritto il corriere della sera non è che me lo so inventato e andate ragazzi andate andate sul corriere della sera degli articoli di ieri dove lui ha detto esplicitamente che non creda al progetto dei cinesi quindi lui non vuole nemmeno rinnovare alla sé che c'è vattene a fanculo vai vai alla miglior squadra offerente vattene a fanculo per il tuo venticesimo il tuo venticinquesimo compleanno vai a fare un culo sono quattro anni che stiamo giocando per te testa di cazzo perché è per te che la squadra è stata sempre costruita ecco perché Lucianone sta facendo sempre il modulo 4 2 3 1 perché deve fare uno come te per mettere in condizioni uno come te perché tu lì davanti non vuoi nessuno accanto pezzo di merda hai capito i cardi di questo cazzo hai capito tu non vuoi nessuno al tuo fianco non vuoi proprio nessuno allora sai che c'è te ne devi a fanculo io ero fatto 25 anni e sti cazzi te guardo pure nell'occhio perché non c'ho paurecchime hai capito te ne devi a fanculo te ne devi a fanculo lo vuoi capire o non lo vuoi capire io non ci sto a farmi piar per culo da te hai capito a bello da casa tana tana tanto ormai ricordate una cosa non sarai mai il mio capitano sei solamente un ottimo giocatore che per i venti gol che fai a me non me ne frega un cazzo perché tanto i due gol non stanno portando ad arrivare né un almeno almeno una semifinale di coppa italia sono sette anni sette lunghi anni che non andiamo in champions e nell'ultimi quattro anni la squadra sta cambiando per te che non vali un cazzo perché l'altro anno violi l'hai fatto esonerà perché ti ha buttato un panchina hai capito a merda e dove ce stai a portare e adesso ho pure letto oltretutto che tu con il bel evento non ci sarai più le cazzate che fai del cazzo da fuori su quel cappello che io il cazzo te lo ficcarei in culo io lo sapete tutti ragazzi che cazzo parla come magna non c'è troppi pelini al culo parla come cazzo magna quindi quel uccelletto quel cazzo che ti sei messo in capoccia ficcatelo nel culo tuo e devo azzocco da tu moglie hai capito ma hai rotto il cazzo quindi per i tuoi venticinque anni happy birthday to you te you te nel culo ok mauro sei pregato dannatene da parte le carte al curva nord se verrà un giorno andò verrà lo stadio te fischia te fischierà e si schiererà in mezzo a quella gente che te odia perché te odio pure io quindi ciao Icardi vattene affanculo vai vendiamolo immediatamente vai vai ciao bello e per i tuoi venticinque anni vedi vedi almeno quest'anno di portarci nella dignità perché voglio una Champions League è così con i sordi che si ricavamo la prossima estate dal mercato se vado a fare una squadra di dignità e tu te ne vai dritta affanculo ok e con questo ragazzi cartal vi saluta vi ringrazio ancora per il vostro sostegno ragazzi dai stiamo quasi a mille dai ragazzi fatemi contento vai che fra 19 giorni compio un anno su questa piattaforma dai bella ragazzi buona giornata